Dunque, ovviamente, come dicevo, Frattesina è uno degli insediamenti più rilevanti della tarda del bronzo, non solo italiana ma europea, e quindi gli sky di quest'anno l'hanno ulteriormente dimostrato, già si sapeva, ma insomma quest'anno veramente sono emerse situazioni che ci confermano in maniera reclatante questo aspetto straordinario, produttivo, artigianale di Frattesina. Le prospettive quindi sono estremamente positive dal punto di vista di quello che si può ancora scoprire, perché Frattesina è stata indagata, ma è stata indagata per una percentuale molto molto limitata. Quello che noi abbiamo scoperto quest'anno sono cose importanti, perché abbiamo un po' capito come erano fatte le case, abbiamo capito gli aspetti dell'attività artigianale, ma tante altre cose sono ancora da scoprire. Si sa molto di più oggi di come era organizzato l'inizio di Frattesina, ma a livello di dettaglio naturalmente tutto quanto ciò va maggiormente indagato. Quindi le prospettive sono estremamente positive. E' chiaro che questo significa continuare ad avere un appoggio importante da parte delle istituzioni, da parte appunto delle fondazioni, da parte delle università, insomma di tutti quanti i soggetti che sono stati coinvolti in maniera prioritaria in questo progetto. Prima Europa, coordinato la soprintendenza di Verona, Vicenza e Rovigo.